motor one days 2018 12 e 13 maggio all'autodromo di modena un programma così ricco che per farvi un'idea vi basta andare su motor one days punto com dove tra l'altro vi potete anche iscrivere per venire con noi ovviamente l'accesso è gratuito tantissime attività non possono mancare i track day gli hotlap con le nostre supercar e tantissimi test drive ma quest'anno siamo voluti andare oltre l'asfalto se amate il fuoristrada infatti non rimarrete a bocca asciutta perché abbiamo preparato uno anzi due percorsi a vostra disposizione uno soft dove guiderete voi a bordo di auto insospettabili che non vedono l'ora di dimostrare che anche loro se la cavano quando il gioco si fa duro e poi un percorso hard per i veri amanti del fuoristrada vi siederete a fianco a uno dei nostri driver per un percorso fatto di saliscendi guadi twist e quant'altro e ovviamente non possono mancare le regine del fuoristrada una su tutte la nuova Jeep Wrangler allora vi ricordo di seguirci su motor onedays.com per tutte le informazioni tutti gli aggiornamenti e ovviamente per iscrivervi perché quest'anno l'accesso rimane gratuito ma è richiesta l'iscrizione